Saranno i ragazzi del Da Vinci di Chiavenna, del Donigani di Sondrio e dell'Alberti di Bormio a rappresentare la nostra provincia nelle fasi regionali dei campionati studenteschi di atletica che si svolgeranno il prossimo 18 maggio a Bustorzizio. In tre istituti si sono aggiudicate il passaggio grazie agli ottimi piazzamenti conquistati durante i campionati provinciali, disputati venerdì presso la rinnovata pista di Chiuro, da anni ormai punto di riferimento delle manifestazioni di atletica leggera. L'istituto della Valle del Mera si è giudicato il primo posto nella categoria allieve, mentre al maschile è stato il liceo sondresi ad aggiudicarsi la vittoria, seconda piazza sia al maschile che al femminile invece per il plesso di Bormio. Insieme alle tre scuole si sono aggiudicati il pass regionale anche i dieci vincitori delle singole specialità, che non fanno parte delle rappresentative dell'istituto. Solo però, per quanto riguarda la categoria allievi, rimangono purtroppo esclusi gli juniors per mancanza di fondi da parte della scuola italiana. Ciò non toglie che anche i ragazzi di questa categoria hanno dato il massimo per poter onorare al meglio i colori delle proprie rappresentative. Tra le prove in programma i 100 metri e i 110 metri ad ostacoli, la staffetta 4%, i 400 metri, 1000 metri, getto del peso, lancio del disco, salto in alto e salto in lungo. Sono pronti per l'avventura regionale, indossando la maglia sondrese, le allievi Arianna Di Zitti e Anna Tosarini del Liti Mattei, Cristina Molteni del Saraceno Rome Gialli, Chiara Scala del Donegani e Maria Piedella Torre del Piazzi Perpenti. Insieme a loro anche Stefano Buzzella e Gianluca Nesossi del Caurga, Patrick Colcelli, Matteo Dell'Avo dell'Itas Piazzi ed infine Francesco Muzio del Pinchetti.